Questo posto è sempre stato un'oasi per chiunque ci passi. Dei loro genitori non si ha notizie. I nostri bambini vengono da ogni angolo della Palestina e ogni giorno aumentano. Mi chiamo Miral Shaheen. Sono nata nel 1973. Ma la mia storia inizia in realtà nel 1947 con Indus Seini. Per il ciclo Terre Lontane, Miral, giovedì alle 21.10. Grazie a tutti.